Nei paesi poveri del mondo il miracolo è garantire un futuro e dalle marche la Comunità Volontari per il Mondo, CVM, compie in Africa già dei miracoli dal 1978. In Etiopia, ad esempio, i volontari sono al fianco dei bambini di strada che sono costretti a vivere sperando che la giornata vada per il meglio. Si vede questi bambini vivendo sulla strada, dormantando sotto il balcone alla notte. Il gruppo di volontariato, nato nelle marche ma che coinvolge persone di varie nazionalità, mira a far tornare a casa e a scuola i bambini di strada, dando quindi loro un futuro. Grazie al progetto Stream, CVM è riuscita in un anno a cambiare le sorti di minori della regione degli Amara. Con la visione di portare loro in scuola e quest'anno abbiamo portato 200 bambini di strada, hanno iniziato la scuola e il 95% di loro sono anche passati alla grade successiva nella scuola. La ONG marchigiana riversa molte energie verso l'Etiopia. Al centro ci sono i bambini, le donne rimpatriate dai paesi dell'Arabia Saudita e del Medio Oriente, la creazione di lavoro, l'acqua potabile. Il coordinatore dei progetti esteri è reduce da un viaggio nella terra etiope. Un paese che è cresciuto tantissimo. Oggi abbiamo elettricità e strade che arrivano in tanti posti dove non c'erano. Abbiamo persone più preparate, ingegneri che lavorano con noi, che 40 anni fa non avevamo, non si trovavano. È rimasta la disuguaglianza e la povertà. Nelle campagne, lontano dalle grandi città, la povertà rimane praticamente mutata. Ognuno può fare la sua parte, con una donazione benefica, scegliendo di festeggiare la Pasqua con l'uovo solidale o acquisendo consapevolezza, grazie ai valori che vengono trasmessi durante le attività che CVM organizza in Italia. Molte sono nelle Marche. A scuola, con i docenti, con i ragazzi, dando loro una visione più ampia, sicuramente, rispetto anche per esempio a temi come l'educazione e la cittadinanza globale e temi universali quali la pace e i diritti umani.